ciao ciao a tutti io mi chiamo salvi mi racconti una favola va bene Gino adesso ti racconterò la favola della volpe e dell'uva una volpe tornando a casa vede dell'uva gli sembrava buonissima aveva l'acquolina in bocca cercò più volte di poterle mangiare salta una volta salta la seconda volta salta la terza volta ma l'uva era troppo alta alla fine la volpe se ne andò dicendo quell'uva acerba non mi piace così spesso le persone che non raggiungono un obiettivo lo disprezzano questa è una favola di Esopo uno scrittore greco ci vediamo la prossima volta e vi racconterò delle altre favole ciao a tutti vi aspetto ciao a tutti vi aspetto ciao ciao alla prossima favola ciao a tutti 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 ciao a tutti